Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Ritorniamo ad occuparci del campionato del mondo femminile perché ieri è stata giocata la prima partita decisiva ed è stata una super partita strategica secondo me. Ma prima di iniziare velocemente lasciatemi salutare e ringraziare Francesco e Sandro, due nuovi abbonati alle mie video lezioni che trovate qui sul canale a soli 2,99€ al mese. Quindi io vi aspetto sempre più numerosi. E adesso non dimenticate il like perché fa bene all'algoritmo di Youtube e partiamo subito. La sfidante Lei Tingì di bianco contro la campionessa del mondo Juve in Giù con i pezzi neri. E allora Lei di bianco apre con E4, l'altra cinese Juve in Giù risponde con E5, cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in C4. Siamo nella partita italiana che sapete io amo moltissimo. Cavallo in F6, quindi lo sviluppo del cavallo porta inizialmente alla famosa difesa dei due cavalli. Il pedone si protegge con D3, alfiere in C5 però invece che alfiere in E7 è più nello spirito del gioco piano. Infatti stiamo entrando nel gioco piano. Arrocco corto per il bianco, D6 protegge il pedone. C3, siamo nella linea principale del gioco piano, che io sto spiegando molto approfonditamente nelle mie video lezioni. Cosa fa la campionessa del mondo? Invece di arroccare gioca subito a 5. Questa mossa, oltre a prendere spazio sul lato di donna, permette la via di fuga dell'alfiere camposcuro. Perché noi sappiamo che se il bianco riesce a spingere in D4, impattando anche l'alfiere, non subito, adesso c'è un po' da sviluppare, ma se il bianco riesce a fare questa spinta impattando l'alfiere, trova un certo vantaggio. Ora, cosa giocherei io in questa posizione? Mi piace torre in E1, come mai? Perché impedisce questa spinta in D5. C'è da dire però che il nero, il pedone, l'ha già mosso una volta, quindi sarà difficile che usi un secondo tempo per andare subito in D5. Probabilmente questo è quello che ha pensato anche lei. E allora usa il tempo che il nero ha usato, muovendo il pedone A, per riposizionare il suo alfiere campo chiaro. Alfiere in B3 è una delle mosse tematiche di queste posizioni. E allora rocco corto per il nero, torre in E1 arriva adesso, alfiere in A7, adesso si può giocare la manovra per trasportare il cavallo sul lato di Re. Vi ricordate come mai? Vedete che questo cavallo ha tutte le case avanzate bloccate? E allora conviene anche al nero portarlo sul lato di Re. Leiting G gioca H3, alfiere in E6, si contrappone all'alfiere chiaro, alfiere in C2. È giusta scelta perché c'è una grandissima energia potenziale in queste posizioni del bianco. Un'energia potenziale pronta ad esplodere. Allora H6 contro la G5. La manovra di cavallo è quella più giocata. Eppure pensate che D4, giocata in questa partita, che minaccia il doppio micidiale di pedone, è leggermente più precisa. E allora, e per D4, la ricattura di pedone per avere il 2 contro 1 al centro sembra la mossa più scontata. Invece ci sorprende lei, riprende di cavallo, che è ugualmente buona. Certo, cambia tutta la struttura pedonale, cambia tutta la strategia susseguente a questa ricattura. Allora non si deve in queste posizioni perdere la coppia degli alfieri. Alfieri in D7, alfiere in E3. Tanto il pedone è protetto da questo alfiere in C2. Vedete che fa anche un'opera difensiva importante il mantenerlo? Allora, nell'unica partita rimasta in database con questa posizione, il nero ha giocato l'ottima torre in E8. Ma tanto poi il pedone si protegge sempre col salto del cavallo. Invece arriva la novità sempre buona della campionessa cavallo in E5. Si vuol togliere la coppia al bianco, o almeno farlo indietreggiare e dargli fastidio. Ma lo sviluppo del cavallo, oltre a proteggere ulteriormente il centro, controlla anche questa casa C4. Allora attenzione, perché la campionessa del mondo in questa posizione ha giocato questa mossa C5. Una mossa che è stata molto dibattuta a fine partita. L'idea più precisa invece di C5 è quella di trasportare il cavallo in G6. Non giocare C5, ma giocare C6 per la spinta in B5. Io comunque, sì, è un po' rischiosa questa mossa. Non mi sembra però quella che impatta così tanto sulla partita. E allora il cavallo sotto attacco si porta in F3, scusatemi, arriva al fiere in C6, cavallo per cavallo, il pedone ricattura la spinta a 4. Guardate, ridendo e scherzando, questo pedone è rimasto in qualche maniera arretrato. Donna in E7 connette le torri e lascia la colonna D per la torre. Per questo motivo lei toglie la donna dalla colonna D, donna in E2, torre in F che va in D8, torre in E che va in D1, al fiere in B8. Giustamente, giustamente, gli ha cambiato diagonale. Ora, qual è il problema? Il problema è che anche questa è un po' bloccata. Certo, meglio che stare in A7. Ora siamo ad un altro momento interessante perché la continuazione del trasporto del cavallo, che sembra lasciare il pedone in presa, invece è giocabile ed è l'idea più precisa. Come mai? Dopo cavallo in F1, qui il succo è proprio che le torri sono disconnesse perché questo sta cambiando diagonale. non si potrà mai catturare il pedone. Guardate, alfiere per pedone, alfiere per alfiere, attacca la donna. Il problema è che la donna controlla anche la torre. E qui, praticamente, se donna per alfiere, torre per torre con scacco, questo si sposta, ripiglia il pezzo con scacco, il bianco alla torre di vantaggio. Dopo cavallo in F1, nemmeno il cambio preventivo delle torri funziona. Qui, di nuovo, non si può catturare il pedone perché, di nuovo, quando questo rimane sotto attacco a raggi X, alfiere per c5, stessa storia di prima. Se donna per alfiere, torre in D8 con scacco, il re si sposta. Donna addirittura che cattura in E4 con scacco, g6. Donna in B7, qui addirittura casca un altro pezzo. Roba allucinante. E allora, cavallo in F1 sicuramente, idea migliore, guardate bellina con... Invece, lei gioca a donna in C4. Non è un gran che, come mai? Certo, è un secondo attacco sul pedone, ma B6 era proprio la mossa che il nero voleva giocare, che è una mossa buonissima. Allora arriva B4, e questo, secondo me, è il momento più importante della partita. Più importante della spinta o meno C5. Come mai? Pedone che non può catturare, perché è inchiodato sull'alfiere sospeso. Qual è il problema del nero? Vedete che ha questi due alfieri... Scusate, che ha questi due pezzi, l'alfiere e la torre, che andrebbero sviluppati meglio? E allora questo, probabilmente, è proprio il momento per riconnettere le torri, giocare alfiere in D6. E invece la campionessa del mondo gioca A per B4, C per B4, alfiere in D6 adesso, ma arriva B5, alfiere in D7, il bianco in vantaggio. Allora, donna in C3 cosa fa? Ci fa capire quali sono le intenzioni della giocatrice bianca. Il bersaglio diventa il pedone più debole, perché ancora non si riesce a proteggerlo con un altro pedone. Anche questo è debole, il problema è che una debolezza è una debolezza soltanto se può essere attaccata per adesso. Questo è quello attaccabile, questo non è attaccabile. E allora, alfiere in E6, cavallo in C4, veramente una brutta posizione. Vedete però che il secondo bersaglio è proprio questo? E allora, Juven Giunga è costretta a dare via la coppia degli alfieri. Alfiere per cavallo, la donna ricattura, cavallo in E8. Alfiere in B3, cavallo in C7, donna in C2, cavallo in E6. Juven Giunga ha trovato una bellissima manovra di cavallo che porterà il cavallo sull'avamposto due volte controllato in D4. Allora arriva alfiere in D5 che attacca la torre. Torre in A che va in B8. Raffermiamoci un attimo, perché ci ho pensato parecchio, un bel po', non sono riuscito a trovare un antidoto alla forte cavallo in D4. Veramente un pezzo fastidiosissimo. Probabilmente non è riuscita a trovarlo neanche lei in G e infatti lei cambierà l'alfiere sul cavallo. Sarà costretta a dare via la coppia perdendo una parte del vantaggio. Ma come avrebbe giocato Stockfish in questa posizione? In un modo alla fine complesso, ma che in parte possiamo assimilare anche noi. Allora ritorniamo indietro. Stockfish inizia a migliorare i suoi pezzi. Donna in C4, cavallo in D4. Stockfish il cavallo lo lascia dov'è? Fino a quando? Fino a quando non ha trovato il setup migliore per i suoi pezzi. Gioca D3, perché tanto lo scacco di cavallo è assurdo, perché non serve a niente. Addirittura migliora il re che vuole proprio andare in G2. E allora alfiere in C7. Re in G2 si toglie anche dall'altro scacco del cavallo. Anche se la casa E2 è controllata. Come mai? Perché bisognerà attivare le torri. Allora torre in D7, torre in D3. Anche se chiude la difesa della donna, non c'è più scacco, quindi non serve a niente. Re in H8 schioda il pedone. Solo adesso che ha manovrato come voleva il computer. Rimuove il cavallo. La ricattura col pedone è l'unica buona. Torre in F3 ha trovato il contrattacco. Oppure ha trovato proprio l'attacco. Arriva F6. H4 prende spazio. Andrebbe pure in H5. Allora H5 lo gioca il nero. Alfiere in C6 attacca la torre. Torre in D che va in D8. E arrivano le spinte micidiali di pedone. A5 che minaccia di diventare A6. Pedone passato, avanzato e protetto. B per A5 e questa E5 è l'idea micidiale. Come mai? Qui naturalmente catturerebbe lui. Se F per E5 la torre supportata dalla donna entra in settima. O addirittura c'è anche torre in F5. E questa invasione della torre porta a spaccare completamente la partita. E che succede dopo E5 se il nero riprende D alfiere? Torre per pedone, raddoppio delle torri sulla colonna A. Di nuovo dominio della settima traversa. Posizione dominante per il bianco. Ora, certo, questi sono piani estremamente complessi, no? Con questi sacrifici di pedone. Bello però poter tenere a mente il fatto che noi possiamo lasciare il cavallo sull'avamposto fin tanto che non lo abbiamo manovrato come desideriamo. E poi lo togliamo al momento opportuno. Ritorniamo a noi. Abbiamo detto la sfidante cambia questo alfiere sul cavallo, la donna ricattura. Torre in D5, alfiere in E7. Allora, raddoppio delle torri sulla colonna D. Torre per torre in D5, la torre ricattura, torre in A8. Anche se il pedone è protetto, quello che vuol fare il nero vuole impedire la spinta di rottura A5. Allora, alfiere in D2, re in F8. Alfiere in C3, di nuovo questo è il bersaglio, vedete, allora il nero è costretto a giocare F6. Donna in B3, attenzione, donna del nero sospesa. Allora, scacco di torre, perde la torre ma vince la donna. E allora la donna si sposta in C8, donna in C4. Pezzi sempre più attivi, sempre più centralizzati. Guardate che succede. Donna in E8, G3, donna in C8, re in G2, donna in E8. E questo l'abbiamo visto spesso. Sempre brutto, sempre brutto, quando si va avanti e indietro con i pezzi. Perché non ci sono mosse buone da poter giocare. E allora prende spazio in H4, arriva H5, alfiere in D2, torre in B8, non si può spingere, se no si perde il pedone. Ma vedete qual è il vantaggio del bianco? Non ha solo questa spinta di rottura. C'ha pure F4. Allora F4 arriva subito. E per F4, l'alfiere ricattura, torre in B7, donna in E2. Arriva G6, E5 è fortissima. E ora non si capisce bene cosa si dovrebbe giocare. Veramente una posizione complicata. E allora Juven Jung cosa fa? Tenta il contrattacco sul pedone arretrato. Gioca donna in A8, che purtroppo non funziona. Donna in F3, che cosa vorrebbe fare? Vorrebbe cambiare per poi inchiodare la torre sulla donna. Non qualcosa che vedremo lo stesso, anche senza il cambio. Juven Jung gioca F5, certo questo è diventato pedone passato. Torre in D7, ora l'unico modo per non perdere il pezzo è spostarlo, dove è protetto dalla donna. Torre in A7. Donna per donna in A8 con scacco. La torre ricattura. E6, pedone passato avanza, gli toglie pure la casa. F7 a re. E allora torre per pedone. Torre in B7. Si può proteggere il pedone? No davvero. Tant'è che non lo farà neanche Juven Jung. Dopo Alfiere in D8, che succede? Alfiere in D6 con scacco. Se re in E8, torre in G7 minaccia di matto. Se re in G8, basta giocare torre in B8. Pezzo perso, perché inchiodato su un re, lontano. E allora torna indietro con la torre, Juven Jung, per difendere l'ottava traversa. Certo, casca il pedoncino. Due pedoni passati. Il pedone passato c'è anche il nero. Pedone passato che avanza. Torre in C6 lo attacca da dietro e libera l'avanzata del pedone B. Alfiere in D8, arriva B6. Torre in A2 con scacco. Re in F3. Torre in B2. Torre in C8. Inchioda l'alfiere. Ora attenzione, che succede? Se re in E7 a proteggerlo, arriva alfiere in C7 che protegge il pedone e lo minaccia due volte. E se alfiere per alfiere, che è l'idea migliore, è il pedone che ricattura. Non si può catturare il pedone in E6 perché arriva lo scacco di torre e anche se il re si sposta a minacciare la torre e questo diventa donna, si protegge una vicenda partita finita. E in questa posizione, se il re in D6, e qui non si può spostarsi, se no si perde il pedone, basta giocare E7. Il re deve catturare. Questo si sposta lontano, il pedone promuove. Partita finita. E allora cosa fa la campionessa del mondo? Lascia il pezzo in presa, elimina un pedone passato. Torre per pedone passato in B6, torre che cattura l'alfiere in D8 con scacco, re in C7, torre in C8. Cade anche il secondo pedone passato, torre che cattura in E6 con scacco, dove va il re a bloccare, ad eliminare il pedone passato del nero. Re in D2, torre in E4, re in C3, pedone cade sicuro, re in F7, torre per pedone. Se si cambiano le torri, il nero è perduto, e allora torre in E8, torre in C7 con scacco, re in F6, alfiere in G5 con scacco, re in E5. E' l'ultimo errore? Perché arriva torre in E7 con scacco, il cambio delle torri è forzato, torre per torre, l'alfiere ricattura. Dopo 65 mosse, la campionessa del mondo, Juven Jung abbandona. Perché questo è un finale che si vince semplicemente. Semplicemente, ora ve lo faccio vedere velocemente quanto è semplice vincere. Cosa può fare il nero? Non può fare niente. Non può tentare di attaccare il pedone, perché su casa scura l'alfiere lo protegge, e se attacca l'alfiere, l'alfiere si porta in F4. La strategia del bianco qual è? Con le spallate, con l'aiuto dell'alfiere, spingere via il re, far piazza pulita dei pedoni, partendo da quello in G6. Come si fa? Re in C5, è vero che gli prende l'opposizione, ma purtroppo, e lo vedremo anche in futuro, il bianco gli farà prendere l'opposizione soltanto su casa scura. Allora, per esempio, l'alfiere, tutte le volte che il nero prende l'opposizione su casa scura lo scaccia, re in D5, il re è già passato. Re in E4, alfiere in F4, re in D4, nuova opposizione, vedete? Re in B5, re in D5, re in B6. Vedete l'opposizione? Addirittura non si può più prendere perché è su casa scura. E allora, re in E6, re in C6, l'opposizione c'è dal bianco, pian piano, questo si avvicina, fa piazza pulita. Vi lascio tutta la linea in descrizione sotto al video, perché se no vi annoio. E allora, lo dicevo io, che la sfidante faceva paura, ma solo 4.000 prodi hanno guardato quel video. Speriamo che questo, per rispetto alle ragazze, lo guardino più persone. Leiting G si porta in vantaggio e vi faccio vedere la foto di Leiting G durante la partita. Mi pare che questa qui abbia veramente gli occhi della tigre. Allora, ditemi che cosa ne pensate, ditemi se la partita vi è piaciuta. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, in modo tale che ci guardiamo insieme tutte le migliori partite. E noi, naturalmente, ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!